se sei un fan della serie tv il clandestino non puoi perderti l'ultima puntata in onda stasera su rai 1 alle 21 25 questa sera finalmente verrà svelata la verità su cadia e sul suo coinvolgimento nell'attentato che ha sconvolto la vita di luca travaglia cadia interpretata da la vinia longhi ha nascosto molti segreti e un passato oscuro ma non ha mai mentito riguardo ai suoi sentimenti per travaglia l'attrice stessa ha rivelato su rai play che tra i due personaggi c'è una bella storia d'amore e che il finale sarà sorpresa anche edoardo leo interprete di luca travaglia ha dichiarato che il suo personaggio è molto complesso e viene tradito diventando una persona indurita dalla vita luca non riesce a credere che cadia sia una persona infiltrata nella sua vita ma stasera finalmente verrà svelata la verità su tutto ma non è solo il passato a tenere banco nell'ultima puntata si scoprirà anche se la storia d'amore tra luca travaglia e carolina vernoni avrà un seguito dopo aver scoperto che lo stalker di carolina era il suo ex amante travaglia ha troncato ogni rapporto con lei tuttavia l'attrice ha rivelato che luca e carolina apparentemente persone agli antipodi hanno in comune una sfiducia verso le relazioni e il mondo quindi se vuoi scoprire cosa succederà tra luca travaglia cadia e carolina vernoni non puoi perderti l'ultima puntata di il clandestino stasera su rai 1 sarà una serata ricca di emozioni colpi di scena e rivelazioni che ti terranno incollato allo schermo fino all'ultima scena non farti scappare l'episodio finale di una delle serie tv più amate del momento prepara i popcorn spegni il telefono e goditi la conclusione di una storia vincente e piena di colpi di scena buona visione